RESTI A DORMIRE QUI DA NOI? Spero di non disturbare! Ma figurati! Ti metti con noi in camera, se si sta bene. Perfetto, molto volentieri. Ma c'è un sacco di spazio, c'è una stanza per te. Di dove sei tu in Austria? Vienna. Vienna, Vienna? Proprio dentro Vienna o nei dintori? Conoscete la città? Certo. Io sono stato un anno in Austria, a Salzburg. Fantastico! Per lavorare e studiare. Per studiare? A Salzburg viveva un famosissimo storico, Mark Bloch. Ah, Mark Bloch! Conosco! Io ho letto un tranche di fè. Bellissimo! Vado a prendere il dolce. L'hai letto in francese? Beh, sono di madre francese. È vero. Mi resta, no? Ce ne vanno a tradurlo. Mi piace la storia, eh? Sì, è una passione. E tutta la vita è cosa stupida. Ingegneria. C'è proprio la faccia di ingegnere, vero? Allora, faccio il tuo agliolo. Sei sempre il solito. Tanto non cresci più di così. Questa pagagnola non c'è più. E a me? Grazie. È bellissimo qua intorno. Sì, l'hai visto a piedi? No, non ho avuto occasione. Dopo ti ci porto. Volentieri. Tu non è che per caso hai film di comedia italiana? Perché mi piace tantissimo. Sono proprio innamorato. Che cosa ti piace? C'è un attore che mi piace tanto, Pozzetto. Conosci Pozzetto? Ah, sì, sì, figura. È famoso qua. È un film dove lui fa una battuta che è bellissima. Palla, palla. Dice. Adesso facciamo un bel gioco. Le puttane da una parte e i froci dall'altra. E uno lo dice. Ma io non sono frocio. Eh, il gioco delle bugie lo facciamo dopo. Come hai fatto? È bellissima. Proprio ho imparato, ho studiato perché è troppo bella.